Buongiorno a tutti, eccoci qui per il nostro consueto video di Repilogo Settimanale dove analizzo i principali indici azionari mondiali, il futures sul BTP e l'intero FuzziNib. Come vi sarete accorti e molti di voi mi hanno anche contattato privatamente, sono alcuni giorni che non pubblicavo alcun contenuto ma non sono stato bene, ho avuto uno stato influenzale con un po' di febbre, ancora adesso non sto benissimo, però oggi sono ugualmente venuto in ufficio perché comunque oggi pomeriggio ci sarà la prima sessione delle due giornate formative, una per neofiti, l'altra per investitori avanzati, quella per neofiti oggi pomeriggio dalle 14 alle 19 e quella per investitori avanzati sabato prossimo sempre dalle 14 alle 19 e mi devo scusare, non li ho contati con precisione, però i 20-30 come range a livello numerico che mi hanno scritto e ai quali non sono riuscito a rispondere in questi giorni perché erano interessati a partecipare alla giornata formativa di oggi pomeriggio. Non vi preoccupate perché fine novembre, inizio dicembre ci sarà l'ultima sessione dell'anno, ovviamente avrete la priorità perché vi eravate già, non voglio dire prenotati, ma comunque avevate già chiesto informazioni per partecipare già a questa. Purtroppo non sono stato bene e non sono riuscito a richiamare tutti. Un'altra cosa a cui tengo molto e che non vi ho più ricordato, non avendo più pubblicato video, è che il 24 di ottobre sarò a Milano nel Palazzo Diamante, la sede di DMP Paribas, per questo evento dedicato a me, nel senso sarò l'unico, il famoso one man show e sarà sempre più una rarità perché comunque mi muoverò sempre meno con l'avanzare l'età e con i tanti impegni che ho, anche se non vi nascondo che questi giorni di seppur leggera malattia mi hanno fatto riflettere sul fatto che dovrò probabilmente alleggerire qualche impegno e adesso sto valutando che cosa eliminare dai tanti impegni che ho quotidianamente perché tenere questi ritmi è davvero piuttosto complicato. Comunque l'evento di Milano sarà un evento in presenza, l'inizio alle 17.30, termina alle 19.30, poi seguirà un rinfresco all'ultimo piano della torre del Palazzo Diamante di DMP Paribas, finora si sono iscritte una sessantina di persone, i posti sono 80, mancano 12 giorni per cui mi farebbe piacere continuare a iscrivermi anche perché è un evento totalmente gratuito, così ci possiamo conoscere anche di persone. Veniamo adesso ai mercati, ovviamente per iscriversi bisogna andare sul sito internet di DMP Paribas Investimenti nella sezione del calendario degli eventi. Veniamo adesso ai mercati, io comunque seppur febbricitante ho seguito il mercato e devo dire che molti di voi si saranno già accorti che sono tornato alla miniatura Bluett, perché è vero che paradossalmente il mercato continua a essere molto più complicato di quello che i nuovi record storici su Dow Jones e Standard & Poor's 500 ci darebbero ad intendere, però bisogna riconoscere che su una continua cavalcata trionfale, soprattutto agli inizi americani bisogna riconoscerlo, ma comunque un DAX che torna nuovamente molto vicino ai propri massimi storici vuol dire che il mercato al momento voglia di scendere non ne ha. Però questa cavalcata incredibile continua a essere basata principalmente sui rally dei titoli bancari. E' vero che per esempio DPR ha rilasciato un piano industriale molto ambizioso che se venisse centrato giustificherebbe assolutamente il rally delle ultime sedute, ma è anche vero che come al solito tutto parte sempre dagli Stati Uniti perché dopo i dati macro americani sulla disoccupazione la settimana scorsa, vi ricorderete molto meglio delle previsioni e di conseguenza un'ipotesi che la Fed non possa tagliare non tanto di qui a fine anno, perché Powell bene o male lo ha promesso, ma nei primi 3-6 mesi del 2025 ha fornito ulteriore benzina al settore bancario, tant'è che ieri, come se non bastasse, è uscita una trimestrale sopra le stime anche da parte di JP Morgan. Guardavo i dati, in effetti sono buoni, ma non sono incredibili perché se ci pensate la previsione per il 2024 sarà 92,5 miliardi, principale voce di reddito rispetto a previsione precedente 91 miliardi, quindi poco sopra le attese, però il titolo ieri ha fatto oltre più 4%, anche il margine di interesse non è cresciuto in maniera incredibile, è cresciuto 3%, a 23,4 miliardi, però le stime era perché fosse in leggero calo. E tutto comunque parte sempre dal fatto che guardavo che il Treasury note americano a 10 anni è ritornato decisamente sopra il 4% ed è sul massimo degli ultimi due mesi. Quindi la forza del settore bancario, io devo dire meno male che non ci ho capito nulla perché dopo quello che ho letto in settimana rispetto all'operazione su Ux di Richmond, devo dire che il mio ego stava pur debilitato da uno stato di salute non brillantissimo, bucando il soffitto del mio nuovo appartamento perché comunque dopo essere stato il primo su Beyond, ancora prima di Quinto Essential, dopo aver previsto quello che sta accadendo nelle ultime settimane su Stellantis e devo dire che Ux per me ricordo ancora benissimo le parole che dissi a Classi NBC rivolgendomi, non lo conosco, non so neanche come si chiami all'amministratore delegato del gruppo svizzero dicendo che bisognerebbe spingere per un'esecuzione sommaria in piazza perché non si rende conto di quanto costerà al gruppo elvetico l'acquisizione di Ux e ho letto anche un articolo di Affari Italiani che diceva che sotto la guida di Federico Marchetti era una società molto redditizia, anche questo non corrisponde al vero perché ha sempre avuto molti primostruosi, però quello che fa riflettere come oggi Richmond abbia dovuto fare una svalutazione su Ux di 5,3 miliardi, quindi diciamo che è stata un'acquisizione assolutamente improvvida, però sulle banche per quello che sta accadendo non ci ho capito nulla, io continuo a avere i miei dubbi che vi manifesto da mesi, io credo che legalmente rispettando le norme le banche abbiano trovato un modo per non mettere a bilancio i crediti deteriorati nell'entità in cui sono, perché se voi sospendete la data di un mutuo, un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, comunque siete un credito a rischio, siamo, forse anch'io un mutuo, però sto rispettando le rate, però nella mia testa penso che sono un soggetto a rischio, però per le banche sono uno in bonus, come chi ha un fido ed è sempre al limite del fido, magari se venisse ovviamente chiesto un piano di rientro a questa persona, questo imprenditore sarebbe in difficoltà, però siccome è entro il limite del fido viene considerato in bonus, però diciamo che finché c'è questa situazione è anche difficile vedere un calo significativo delle banche. l'ultimo dubbio che mi è rimasto, che per me non può essere solo giustificato dal differenziale tra tasso attivo e tasso passivo, è che le uniche banche europee che stanno pubblicando bilanci stratosferici sono quelle italiane, per cui lì mi riservo di approfondire la questione. Adesso però veniamo a quello che è accaduto sul mercato e noteremo subito come vi ho già detto in premessa che per esempio il Dow Jones addirittura ha fatto nuovi massimi storici proprio nella seduta di ieri a 42,899, ha chiuso a 42,863. Pur non avendo pubblicato per qualche giorno mi ricordo benissimo che vi avevo detto, e questa è una analisi errata, come questo box di congestione fosse a rischio di distribuzione, mentre addirittura i fatti hanno dimostrato che era un ulteriore accumulo. E' vero che indicatori oscillatori, guardo sotto MACD e RSI, non accompagnano in maniera chiara questa salita, però bisogna dire che anche se traccio una rialzista e lascio fuori l'ombra dell'11 settembre comunque vedete come è forte il trend, quindi c'è sinceramente poco da dire. Stesso discorso per lo Standard & Poor's 500, pensavo che potesse esserci un inizio di distribuzione e invece qui è una situazione proprio simile a quella del Dow Jones, abbiamo un nuovo massimo storico a 5.822, proprio toccato ieri, una chiusura a 5.815, quindi anche qui nulla da dire. Diverso il discorso sul Nasdaq, il Nasdaq sicuramente può ritornare in area di massimi storici, deve chiudere il gap, questo è il composite lasciato aperto, sul minimo del 16 di luglio che è 18.386 e poi abbiamo in sequenza 18.576, 18.641, 18.671 massimo 11 di luglio. Qui probabilmente potrebbe aver inciso in maniera molto negativa l'andamento di Tesla perché c'è stato questo evento di presentazione del robotaxi che sinceramente ha un po' deluso gli investitori. Andiamola un attimo a prendere Tesla. Vedrete che c'è questa addirittura apertura in gap down, il gap lasciato aperto sul minimo del 10 di ottobre, quindi di giovedì, 232.34, ma al di là dell'andamento piuttosto negativo vedete che c'è anche una perdita netta della rialzista partita dal minimo del 5 di agosto della media mobile a 50, 225.3 e ha rimbalzato appena, ha ritestato quella a 100, 216.67 e per come si è impostato a Tesla potrebbe anche tornare a testare la media mobile a 200 che è 202.33. Andiamo adesso a vedere il Nasdaq 100, stessa situazione che abbiamo visto per il Nasdaq Composite con però se ricordo bene aveva già chiuso il gap infatti perché il gap rimasto aperto sul minimo del 16 luglio 22.66 è già stato chiuso nella seduta di mercoledì, anzi scusate, l'aveva già chiuso il 26 di settembre, quindi sicuramente Nasdaq 100 con maggiore forza relativa rispetto al Nasdaq Composite, target 24.77, 25.85, poi massimi storici 26.90, prima c'è anche 26.72. Russell lo vediamo nel video di domani, per cui adesso veniamo in Europa e vediamo che il DAX sembra voglia tornare in area di massimi storici, per cui 19.448, 4.49, poi massimo 27 di settembre 19.491. Quindi ho tracciato la rialzista a partita al minimo del 5 agosto, situazione assolutamente sotto controllo. Caccarant, in questo caso abbiamo una media mobile a 100, 7.580, che ha fatto da resistenza, la seduta di ieri perché ha fatto sì un massimo a 7.587, ma poi ha chiuso a 7.577, obiettivi 7.623, 7.654. Eurostoxx 50, anche qui la situazione è piuttosto positiva perché sembra, voglia tornare prima a 5.016, 5.060 e poi sul massimo il 27 di settembre 5.071. Eurostoxx banks, vedete che alla fine non è salito tantissimo ieri perché è più un fenomeno italiano, come vi dicevo, la forza delle banche, perché se andiamo a prendere anche un settimanale, ha poi fatto più 1.67, quindi non tantissimo, considerato che l'Eurostoxx 50 questa settimana ha fatto più 0.99, e quindi c'è stata sì una sovra performance, ma non qualcosa di assolutamente clamoroso. Torniamo un attimo sul giornaliero per vedere 147.02, 147.73. Come sapete ogni sabato facciamo anche il Fuzzi 100 londinese, in questo caso siamo in un turn in range, 868.08, 3.70, e nella seduta di ieri ha fatto una spinning top con una chiusura sopra, la media mobile a 108.239, ma sotto la media mobile a 50, 8.260, la chiusura è stata 8.253. L'Ibex 35 che sembra adesso in un trending range compreso tra 11.563 e 11.781, e qui dobbiamo semplicemente aspettare che il mercato prenda direzionalità. Andiamo a vedere Nikkei che sembra invece piuttosto direzionale con un probabile tentativo di rottura di 39.829, con obiettivi 39.927, 39.973, poi massimo 18 di luglio 45.87. Andiamo a vedere Langseng, uno dei titoli e degli indici che mi chiedete di più. C'è stato questo sell-off pesante nelle sedute soprattutto di mercoledì, ma anche parzialmente di giovedì, mercoledì comunque ha perso il 9.40%, ma attenzione perché veniva da super rally e adesso potrebbe arrivare fino a chiudere il gap, lasciato aperto sul massimo del 26 settembre, 19.944. Oltre non credo, però è ovvio che di breve i massimi del 7 di ottobre 23.241 dovrebbero essere massimi che reggono per diverse sedute. Concludiamo la carrerata degli indici con il nostro, in questo caso, Futs and Meal Futures, che dà un bel segnale nella seduta di ieri con un massimo a 34.230, chiusura 34.225. Sì, praticamente arriva su questa resistenza, su questo massimo nel primo di ottobre lo eguaglia, però io credo che fino a 34.625, 34.695 possa tranquillamente tornare. Non è invece una situazione, secondo me, così confortante quella dei volumi, perché con una seduta comunque così positiva come quella di ieri abbiamo meno di 2 miliardi e mezzo, quindi non sono tantissimi i volumi e prima delle aste finali, e Renato anche nei giorni in cui ero a letto, insomma a casa influenzato, continuava a mandarmi i dati, erano meno di 2 miliardi prima delle aste finali. Adesso portiamoci sul BTP Futures, perché qui c'è una cosa interessante, perché la difficoltà di questo mercato qual è? E che bene o male tutto quello che io stesso, non voglio dire do per scontato, ma ritengo sia maggiormente plausibile, poi viene sempre rimesso in discussione, nel senso che dopo la seduta molto brillante del primo di ottobre per il nostro BTP Futures, con un massimo a 122.62, una chiusura a 122.21, potesse ancora proseguire a rialzo. Invece è iniziata una fase di correzione, e vedete che nella seduta di ieri, ma anche in quella di giovedì, c'è stato un movimento abbastanza negativo, perché è stata persa la bialzista partita dal 2 di luglio di quest'anno. Questo oltretutto significa che potrebbe nelle prossime sedute continuare la correzione fino a 119.7, 119.32 e poi 118.96. Per cui in realtà il nostro BTP lo vedo in correzione di breve. Questo perché sono usciti i dati sul portafoglio BCE, tolto i titoli di Stato francesi, gli altri titoli di Stato presenti nel portafoglio della BCE continuano ad assottigliarsi, per cui è un momento in cui vengono venduti anche diverse centinaia di milioni, se non qualche miliardo, adesso non ricordo il dato preciso della verità, di BTP. Adesso andiamo a vedere i singoli titoli. Partiamo ovviamente da 2A. Devo dire che mi ha sorpreso. È vero che la correzione c'è stata, è vero che sulle utilities ho la coscienza a posto, perché vi ho detto che vedevo una correzione di breve, ma poi le vedevo ripartire alla grande, però non pensavo molto onestamente così in fretta. Soprattutto A2A ha reagito, vedete che ve l'ho tracciata, la rialzista partita dal minimo del 5 di aprile, da questa, vedi poi passante per il 5 di agosto e poi per il 4 di ottobre, questo supporto dinamico, e stava recuperando lentamente, poi in realtà i ghiedici è stata un'accelerazione importante. Massimo 2,092, chiusura 2,084, obiettivo 2,11,6, massimo 12 di settembre, ma poi dobbiamo addirittura passare subito al mensile, perché sinceramente a quel punto almeno un 2,1675 massimo di settembre 2008, poi addirittura abbiamo un 2,33 e mezzo massimo di agosto 2008. Proseguiamo con Amplifon. Il legone, devo dire che dovrei chiudere il canale YouTube solo per i legoni che sto facendo, perché vanno contro i miei principi, perché io di solito stoppo sempre in maniera rigorosa, vi ho fatto vedere Tecnoprobe l'altro giorno, però devo dire che per il momento il legone su Amplifon sta funzionando, io ho un prezzo di carico nel mio portafoglio medio e lungo periodo non particolarmente brillante per carità 26,75, però vedete che ieri ha chiuso sui massimi giornata 27,41, per cui in realtà è la miglior chiusura per Amplifon da praticamente un mese a questa parte, quindi c'è la possibilità che possa proseguire nella fase di recupero con un primo target sulla media mobile a 50, 27,7, poi c'è 27,82, massimo dell'11 di settembre, un gap da chiudere a 28,05 minimo 9 di settembre, e poi c'è il massimo del 9 di settembre che è 28,51. Andiamo adesso ad Azimut, Azimut è in una fase moderatamente positiva, vedete che sta comunque tenendo questa rialzista partita dal minimo del 5 di agosto, ritengo che possa ancora riportarsi a 23,38, poi abbiamo 23,46, quindi massimo del 12 di luglio 23,66, media mobile a 223,97. Banca Mediolanum, Banca Mediolanum invece a differenza di Azimut è sicuramente in un range quasi di massimi, tra l'altro pluriennali perché range 10,91, 11,55, se andiamo a prendere un mensile vedete che addirittura questi sono livelli che non venivano toccati da settembre 2001 e ritengo peraltro che dopo questo minimo a 10,91 possa riportarsi fino al massimo il 27 di settembre che è 11,55. Montepaschi, intraday abbiamo toccato ieri un nuovo massimo di periodo a 5,42,4, ha chiuso a 5,34, leggevo prima perché non vi nascondo che non essendo stato bene ho letto un po' meno notizie rispetto a quanto ho fatto di solito, che però peraltro e non è comunque è un bene che avvenga ma non è il massimo per possiamo anche calcolare quanti soldi sono. Allora, ci sono dei bonus, un bonus, premio cash da 750 euro per il 2024 per 16.500 dipendenti di Montepaschi poi c'è un incremento dei contributi previdenziali dal 2,5 al 3% e dei buoni pasto da 6 euro a 7 euro per cui è secondo me grossomando saranno 50 milioni o giù di di però comunque diciamo che è un minimo di esborso per quanto riguarda Montepaschi poi c'è questa indiscrezione per cui un gruppo di imprenditori guidati da Enrico Marchi Enrico Marchi era non so se lo sia ancora era l'amministratore legato di Save se vi ricordate Save del rapporto di Venezia che l'ha quotato in borsa che adesso è il numero uno di Finint per rilevare una minoranza significativa dal tesoro che comunque vuole vendere il titolo ancora diciamo almeno una parte delle quote in suo possesso target direi 5 60 3 e 6 5 5 65 8 ecco lì sì oltre considerato che un minimo di sconto i compratori lo chiederanno sarei un po' più prudente andiamo adesso a Sondrio anche Sondrio piuttosto bene credo che possa ritornare a 7 26 e mezzo 7 27 poi 7 28 diciamo 7 35 ecco 7 35 oltre è dura però 7 35 almeno è dura nel senso che non è che posso io escludere la rottura di 7 35 però poi si andrebbe addirittura a 7 86 quindi diciamo che per adesso diamo un 7 35 come obiettivo per quanto riguarda Sondrio anche Banco BPM bene ieri fa in realtà una Doji massimo 6 19 6 chiuso alla 6 16 4 però prossimi obiettivi 6 26 4 6 27 6 poi abbiamo 6 37 4 6 52 6 la grande protagonista della settimana è stata ovviamente BPER ora chiariamo subito il ogni dubbio perché un aspetto importante io potrei venire oggi e dirvi andate a rivedervi la puntata di Borsa in diretta di lunedì quando ho detto chiaramente che il miglior bancario di periodo sarebbe stato BPER al di là che non sono stato bene però io non avrei comprato il breakout però una cosa importante è che anche se io vengo ritenuto anche analista oltre che trader se io non faccio l'operazione che io abbia avuto una lettura corretta non serve a nulla perché anzi e sto gettando discredito su me stesso e attenzione se io ho una lettura corretta e non la sfrutto è doppiamente grave però io come sapete sui bancari sono prevenuto perché ho le mie idee e l'ho già spiegato tante volte io non longo i bancari poi mi può capitare di farlo in 3 day perché se perdessi per una posizione di molte idee su un bancario sinceramente a livello mentale non riuscirei a sopportarlo perché vi ho già spiegato che cosa non mi è chiaro a distanza di tempo e visto che lo storico vi ho parlato di Bjorn vi ho parlato di Stellantis di Jux è difficile che mi sbagli ho ancora dei dubbi però non bisogna evitare di ammettere i propri errori come io faccio peraltro sempre per questo che molti di voi mi apprezzano e Biper nonostante il gap lasciato aperto sul massimo di mercoledì a 5.32 la chiusura anche ieri sui massimi a 5.86 e 8 5.86 c'è ancora spazio per ulteriori salite per Biper perché vedete che praticamente c'è questo massimo di aprile 2014 che è praticamente a 6 e poi abbiamo 6.053 e poi 0.06 6.06 quindi c'è ancora spazio per Biper è ovvio che chi sta cavalcando il titolo deve cominciare a ragionare in ottica stop profit io per esempio lo alzerei a 5.758 cosa intendo dire che se il titolo mi effetto una chiusura giornaliera sotto questo livello io porto a casa il guadagno interessante anche quanto sta facendo Brunello Cucinelli decisamente il titolo del lusso migliore in questo momento perché al di là poi magari ce ne occuperemo domani se ci saranno le condizioni per farlo DAF per la storia della cessione di Moschino che ha evitato guai peggiori alla società la resilienza maggiore nel lusso italiano a livello di andamento di borsa poi vedremo l'andamento dei conti però a livello di andamento di borsa è stato indubbiamente quello di Brunello Cucinelli tra l'altro martedì ha fatto un minimo a 92.2 quindi ha chiuso il gap che era rimasto aperto sul massimo il 26 di settembre a 92.45 quindi adesso si trova in questo turning range tra 92.2 e 97.5 la media mobile a 200 è a 94 quindi è facile che torni nella parte alta del range situazione in miglioramento anche per Campari Campari sembra stia finalmente provando ad accumulare primo obiettivo 7.62 poi abbiamo media mobile a 50 7.82 2 quindi massimo del primo di ottobre 7.87 e 6 è ovvio lo do per scontato ma lo ribadisco che tutte le posizioni rialziste andranno chiuse sotto il minimo del 18 di settembre 6.936 di Assorin di Assorin continua a essere in turning range io direi che possiamo parlare di un turning range compreso tra 100.05 e 107.1 l'aspetto positivo è che non ha mai perso la media mobile a 100 meglio l'ha persa solo in 3 ma sempre recuperata in chiusura adesso è 100.85 la media mobile è a 50 e 102.4 per cui è più facile al momento che provi di Assorin a riportarsi in una parte alta del range Enel non bene come a 2A però devo dire che può tornare a 7.12 2 poi 7.22 3 quindi massimo primo di ottobre 7.25 e 8 Eni bel recupero già nella seduta di giovedì peraltro delle medie mobili a 100 14.226 e a 50 14.237 massimo 8.1446 massimo 7.1454 la media mobile a 200 è 14.51 e 2 erg erg devo dire molto male erg molto male perché chiude a 22.78 quindi anche sotto il minimo di periodo che è 22.84 e probabilmente deve cercarsi dei livelli più in basso inferiori per poter iniziare una fase accumulativa 22.56 22.26 eventualmente c'è poi addirittura al 21.64 diciamo che per il momento probabilmente potrebbe farlo qui sui 22.26 però è ancora prematuro per dirlo Ferrari dopo aver chiuso il gap vedete ve l'ho tracciato come supporto statico perché effettivamente è un supporto statico il gap perché un'ex resistenza diventa poi supporto è stata quasi millimetrica perché vedete che il 3 di ottobre ha fatto un minimo a 405.3 ha chiuso a 406.5 il 4 di ottobre ha fatto un minimo a 404.6 poi ha chiuso a 409.6 in effetti ho detto prima Bruno Cucinale il miglior titolo del lusso rimane sempre Ferrari perché Ferrari dobbiamo ovviamente vederla come una società del lusso a tutti gli effetti media mobile a 50 418.9 chiusura di ieri addirittura a 426.8 per cui probabile un ritorno a 434.4 poi abbiamo 440.8 gap da chiudere minimo 3 di settembre 443.4 Fineco Fineco ha fatto una base in area 14.50 adesso sta incontrando una certa fatica a superare le medie mobili a 114.926 e a 50 14.954 primo obiettivo è 15.07 poi 15.45 generali invece addirittura pronta a rompere i massimi di periodo del 20 di settembre 26.26 andiamo a prendere un time frame mensile obiettivo per generali direi a questo punto 26.83 massimo di giugno 2008 era vale ovviamente il discorso fatto per A2A ed Enel sembra già che gli utili possano ritornare in area massimi di periodo per cui 356.6 358.8 361.8 massimo 17 di settembre 363.6 Interpump Interpump situazione interessante perché recupera o meglio mantiene la media mobile a 140.47 chiude a 40.94 per le prossime sedute potrebbe muoversi Interdin Range tra 40.30 e 41.86 intesa nuovi massimi di periodo a 389.1 proprio in chiusura andiamo a prendere subito il mensile vedete che stiamo tornando su questo massimo importantissimo di giugno 2008 3,943 poi si aprebbe un'autostrada addirittura fino a 4.55 però vediamo già se riesce a effettuare una chiusura giornaliera sopra questo 3,943 InWit InWit invece è in fase correttiva è tornata per adesso in area 10.60 settimana prossima dovrebbe continuare la sua correzione con un primo obiettivo a 10.51 poi abbiamo la media mobile a 200 che è 10.47 quindi quella a 100 che è 10.37 7.6 Italgas è il grande rimpianto per quanto mi riguarda perché avevo il titolo a 4.90 e l'ho chiuso in maniera improvvida il 6 settembre a 5.05 ero convinto che l'aumento di capitale potesse frenare il titolo invece vedete che addirittura è forse al momento l'Utilities più forte perché ha superato addirittura a 5.71 e mezzo e c'è spazio addirittura fino al massimo della terza settimana di maggio 2023 6.0 35 Iveco Iveco tutto sommato sta provando a tenere quest'area a 9 nella fattispecie ieri ha fatto un minimo a 8.88 ma poi ha chiuso a 9.01 sopra la media mobile a 50 8.95 5 obiettivi per Iveco al momento direi che rimane un titolo da trading range compreso tra 8.62 8 minimo 13 settembre e il massimo del 19 settembre 9.506 Leonardo brutto movimento nella seduta di giovedì con una long black massimo 21.35 chiusura 20.38 con perdita delle medie mobili a 50 21.2 a 220.93 al momento direi che vale il trading range compreso tra 19.73 e questo massimo del 3 settembre che è 21.65 medio mediobank un grafico che mi ricorda molto quello di generali potrebbe rompere tranquillamente il massimo del 27 settembre 15.485 andiamo a prendere direttamente un mensile perché anche qui dobbiamo tornare molto indietro e direi che l'obiettivo potrebbe essere 15.76 massimo dicembre 2007 poi abbiamo 16.59 massimo di novembre 2007 Moncler meno bene rispetto a Bruno Cucina e anche a Ferrari nonostante l'annuncio dell'operazione straordinaria con Louis Vuitton che come vi ho già detto entrerà nel capitale di Double Rare che controlla direttamente poco più del 15% di Moncler Double Rare era holding di Remo Ruffini però vedete che tutto sommato questa rialzissima partita dal minimo 20 settembre tiene volevo vedere 52.78 52.66 no quindi c'è ancora il gap da chiudere sul massimo del 26 di settembre a 52.66 però credo che la media mobile a 100 sia 55.47 sia sicuramente raggiungibile poi c'è 56.12 poi 56.98 massimo primo di ottobre Nexi è ancora in una situazione abbastanza negativa perché al momento secondo me non è ancora chiaro come possa muoversi nelle prossime sedute mi limiterò a dire che in un turning range compreso tra 5.708 e 5.96 e 2 la media mobile a 105.95 e 5 quindi bisogna aspettare che prenda un minimo di direzionalità Pirelli dopo l'operazione di ABB di Brembo che ha visto il titolo andare fino a un minimo di 5.09 credo peraltro fosse stata a 5.07 poi di questo ce ne occuperemo sicuramente domani ha fatto questa mega acquisizione che invece ha rilanciato almeno borsisticamente il titolo poi non che fosse un'azienda in difficoltà però i numeri erano abbastanza flat come si potrebbe dire a livello di crescita negli ultimi esercizi Pirelli che fa fatica però questo minimo di 5.09 dovrebbe reggere il minimo di periodo e per il momento anche qui siamo in un trail range tra 5.09 e 5.43 e 6 poste italiane poste italiane molto bene perché sembra voglia rompere 12.83 e riportarsi in area di massimi storici area 13 ovviamente potrebbe anche andare a romperli a quel punto si aprirebbe un'autostrada Prisman è un'analisi difficile perché siamo ve lo disegno in un box di congestione piuttosto nitido box di congestione peraltro in area di massimi storici abbiamo un gap ancora aperto rimasto aperto sul massimo del 18 settembre a 63.18 e abbiamo questa rialzista partita dal minimo del 5 di agosto che adesso fa da resistenza dinamica per cui al momento è soltanto un titolo dato di range soltanto sarebbe sminuente perché parliamo di range in area di massimi storici 63.5 67.58 ricordati ricordati dopo l'accordo con Sanofi è volata la fattispecie seduta alle 4 di ottobre 49.9 52.4 di massimo chiusura a 51.85 adesso sta facendo fatica a superare la forte resistenza di area 53 al limite potrebbe farcela ma avrebbe comunque 53.25 53.40 come altri massimi piuttosto ravvicinati personalmente sotto 51.6 minimo dell'8 di ottobre andrei ad applicare uno stop profit Saipem Saipem sta facendo un po' fatica però mi sembra pronta per accelerare al rialzo da cosa lo capisco lo capisco dal fatto che si sia lasciata alle spalle le medie mobili a 200 1.98 6 a 50 1.98 8 dal fatto che abbia comunque chiuso sopra la ribassista partita dal massimo il 24 di luglio non ho dei target stratosferici però potrebbe tornare a 2.062 e poi a 2.112 massimo 24 di settembre media mobile a 100 e 2.12 e 1 Snam è rimasta un po' più indietro rispetto per esempio a Unitalgas ma anche a 2A sembra però voglia riportarsi sul massimo della congestione di breve ovvero 4.513 massimo 4.08 poi abbiamo 4.581 quindi massimo del 2 di ottobre che è 4.63 Stellantis ecco Stellantis qui dobbiamo un po' approfondire perché c'è questa rivoluzione da parte di Tavares che cambia il management di Stellantis lui conferma peraltro che lascerà l'incarico di CEO a inizio 2026 obiettivo rilanciare le vendite e i conti dopo recente profit warning da di annunciato i cambiamenti da cui il nuovo responsabile finanziario è anche un nuovo capo per il brand italiano Maserati che soffre un pesante calo di vendite Doug Osterman diventa con effetto immediato CFO succedendo a Natalie Knight che lascerà l'azienda Antonio Filosa viene nominato CFO per il Nord America oltre a mantenere il ruolo di CEO di Jeep Santo Ficili è nominato CEO di Maserati Alfa Romeo c'è stata l'audizione alla camera perdonatemi io essendo febbricitante non l'ho ascoltata ma mi pare aver capito che ha battuto cassa ha detto se volete che produciamo auto elettriche dovete aiutarci via libera accessione a maggioranza di Comau a One Equity Partner visto l'impegno dell'acquirente a garantire produzione e occupazione dei pianti in Italia dice una nota di Palazzo Chigi però Stellanti si è rinuovo minimo di periodo a 11,604 chiusura a 11,856 questo cosa significa che c'è la possibilità di andare fino al punto di non ritorno che è 11,158 perché dico il punto di non ritorno perché vedete che se andasse a perdere anche il minimo della seconda settimana di luglio 2022 addirittura potrebbe tornare poi a 10,80 e mezzo 9,95 1 vedete è come se tutto il movimento partito dalla prima metà del novembre 2020 che ha portato il titolo ai massimi storici alla luce di quello che sta accadendo incomprensibili di fine marzo di quest'anno mettiamolo anche su un mensile per esempio che rende bene l'idea forse ancora meglio vedete perché lo chiamo punto di non ritorno vedete questo 11,158 minimo 29 luglio sul mensile una chiusura fine ottobre sotto questo livello ci porta subito a 9,95 e 2 a rotondo poi c'è 9,661 perché secondo me ve l'ho già detto anche in altre occasioni in questo momento il vero problema per Stellantis è anche un problema di credibilità perché non avendo comunicato in maniera trasparente a partire dal primo trimestre di quest'anno il mercato adesso ha perso secondo me fiducia nell'azienda STM anche STM continua a essere in una situazione abbastanza critica perché bene o male continua a lateralizzare sui minimi di periodo possiamo considerare io tra l'altro quel giorno mi ricordo di averlo preso il minimo 23 di settembre uno spike 23,83 con chiusura poi 24,85 adesso è fondamentale che tenga questi 24,70 24,85 se li tiene allora un rimbalzo fino alla media mobile a 50 26,55 poi sul massimo del 30 di settembre 27,63 potrebbe anche tornare a farlo veniamo a un'altra situazione molto delicata che è quella di Telecom in questo caso devo ringraziare un membro della mia community ristretta perché non avevo al di là che non sono stato bene negli ultimi giorni trovato delle spiegazioni convincenti devo dire la verità perché si parlava del fatto che poi l'accessione di Sparkle non sia questo grande affare e devo dire che Davide che ringrazio mi ha mandato questo messaggio dove cita l'accordo di Copvoce con Vodafone per cui ci sarà un nuovo modello di dual sourcing che prima vedeva come unico fornitore team mentre adesso è stato allargato questo servizio anche a Vodafone quindi per il fatturato di Copvoce il 40% sarà per team e il 40% sarà per Vodafone la migrazione era prevista e inclusa nel piano di team e sta avvenendo in realtà con qualche ritardo rispetto a quanto previsto Vodafone è stata piuttosto aggressiva nel rinnovare e aggiudicarsi nuovi contratti e luce anche il processo di vendita in corso ora vista la clausola di cambio di controllo attivata l'acquisizione da parte di Fast team ha l'opportunità di conquistare qualche cliente l'impatto sui ricavi del nuovo accordo Copvo vale 30-40 milioni reggiamente inferiore rispetto a quanto ipotizzato quindi questa era passata un po' sotto traccia comunque il segnale ieri è molto brutto io come sapete ho Telecom nel mio portafoglio di medio lungo periodo perché non l'ho chiusa perché voglio darmi un'ultima possibilità ieri ripeto segnale bruttissimo perdita della rialzista perdita al minimo del 5 di agosto perdita della media mobile a 200 0.24 e 4 il mio stop è 0.23 e 9 poi c'è anche da dire che uno potrebbe metterlo adesso devo anche andare a vedere che prezzo medio di carico perché potrebbe eventualmente valutare un investitore che avesse Telecom i i livelli delle medie mobili a 50 0.23 71 e a 100 0.23 e 54 quindi situazione molto delicata per Telecom Tenaris invece sempre piuttosto bene adesso sta facendo un po' più fatica è in un trend range compreso tra 14 31 e 14 98 e mezzo io credo che un ritesto della media mobile a 200 15 virgola 13 possa tornare a farlo Terna bel segnale di ripartenza ieri con recupero della media mobile a 50 7,858 primo obiettivo 8,022 poi 8,13 8,16 e 8 e perché no i massimi di periodo 17 di settembre 8,21 e 4 unicredit nuovo massimo di periodo ieri a 40 punto 24 chiusura 40 punto 08 andiamo subito sul mensile e vediamo che il target potrebbe essere il massimo di dicembre 2011 42 punto 7 concludiamo con unipol 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 ovviamente accelerato più di altre banche perché è sostanzialmente la controllante una quota importante in Biper che come abbiamo visto è stata decisamente la banca migliore della settimana target per quanto riguarda unipol è 12 11.97 12.05 massimo di agosto 2010 con questo concluso mi perdonerete se non stato brillantissimo ma non sto ancora particolarmente bene oggi riuscirò comunque a tenere il corso giornata formativa per investitori neofiti saremo credo una decina ma ripeto non sono riuscito a chiamare tra le 20 e le 30 persone e mi scuso con tutti quelli che non sono riuscito a contattare questa settimana ci sono più prenotati per la giornata formativa per investitori neofiti della prossima settimana io come sapete le faccio a numero chiuso a 20 persone credo che ci siano ancora 5 o 6 posti comunque se siete interessati mi scrivete spero di non avere una ricaduta per cui di riuscire a rispondere ovviamente a tutti in ogni caso noi ci vediamo domani mattinata per il video di ripeto questa settimana e per midcap star e growth a domani a domani a domani a domani Grazie a tutti